Una storia parallela di festini e cene private potrebbe fornire nuovi spunti sul caso della morte di David Rossi. Qualcosa aveva accennato Pierluigi Piccini, ex sindaco di Siena ed ex dirigente MPS. Se ne riparla oggi alle Iene con un nuovo servizio, stavolta Antonino Monteleone intervista un escort che ha partecipato ad alcuni di quei festini nelle campagne toscane. L'uomo spiega di aver deciso di parlare dopo aver visto il primo servizio su David Rossi. Dopo aver spiegato cosa accadeva in questi incontri, dalla selezione agli approcci, rivela di aver avuto come clienti alcuni dipendenti di MPS, dirigenti, direttori. Come faccio a saperlo? Perché comunque loro questa cosa del potere la ostentavano spesso. L'uomo parla poi di droga, si consumavano canne e cocaina. Ma non tutti coloro che partecipavano andavano fino in fondo, altri infatti andavano via. La Iena mostra alcune immagini, riconosce un noto imprenditore di Siena e un importante ex dirigente di MPS. Ma riconosce anche un sacerdote con un incarico di rilievo nella diocesi di Siena, magistrati, un ex ministro e un giornalista. Non tutti sono stati i suoi clienti. Ed è in questo momento che ammette di avere paura. Alla fine sono persone con le quali bisogna stare attenti. L'escort ritiene che alcune di quelle persone siano pericolose, hanno il modo per poterlo essere. E secondo me anche qualcuno direttamente. Alcuni di quegli incontri potrebbero essere stati registrati. Io più di una volta ho avuto la sensazione che qualcuno registrasse. Qualche giorno dopo uno dei miei ragazzi ha confermato che delle persone stavano discutendo perché erano state fatte delle registrazioni degli incontri. L'escort parla alla luce di quello che è successo a David, che aveva sentito nominare ma non aveva mai visto ad una festa. Non ho mai avuto un incontro con lui, però, pensando alle persone che c'erano lì e comunque ai legami che avevano. Perché c'erano persone appunto legate chi alle forze dell'ordine. Addirittura si è parlato che ci fosse qualcuno legato anche a qualche agente dei servizi segreti, robi del genere. Un'ipotesi poteva essere anche quella, che qualcuno lo avesse scraventato giù dalla finestra. Agh! di Silvana Palazzo. La morte di David Rossi resta avvolta nel mistero, ma le Iene tornano ad occuparsene fornendo nuove rivelazioni. Clamorose, così le definisce il programma di Italia 1. A curare il servizio è Antonino Monteleone, il quale ha raccolto la testimonianza di un uomo che afferma di aver partecipato a quelle feste e cene private a cui aveva fatto riferimento l'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini. Le Iene trasmetterà dunque l'intervista a questo uomo che afferma di aver partecipato a questi eventi come escort. I festini si sarebbero svolti nelle campagne toscane, né dintorni di Siena ma anche in altre città italiane. Lo scopo, stando a quanto dichiarato dall'uomo intervistato era quello di intrattenere degli ospiti di alto profilo che avevano una certa importanza per le persone che organizzavano queste feste. A questi festini avrebbero partecipato personaggi importanti della società senese, tra cui un ex dirigente della banca Monte dei Paschi. Le Iene fanno riferimento anche ad un sacerdote con un ruolo rilevante nella diocesi, un magistrato, un politico, un giornalista e anche un ex ministro. Le Iene tornano ad occuparsi della vicenda relativa alla morte di David Rossi, responsabile dell'area comunicazione Monte dei Paschi, deceduto il 6 marzo 2013 nel mezzo della bufera della banca senese. Si è suicidato o no? Il programma di Italia 1 nella puntata dalla 500 alla 1 oggi intende aggiungere un altro tassello al complesso puzzle relativo a questo caso. Verrà trasmessa infatti l'intervista ad un uomo che sostiene di aver partecipato come escortà dei festini di personaggi importanti. Il timore espresso dall'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini, registrato a sua insaputa dalla Iena Antonino Monteleone, è che la magistratura abbia abbugliato tutto per il timore che scoppiasse una bomba morale. Dopo la messa in onda dei precedenti servizi delle Iene sono state aperte quattro nuove indagini, due presso la procura di Siena, due presso quella di Genova. In quest'ultimo caso una è per abuso d'ufficio, l'altra per diffamazione, sono state aperte in seguito alle dichiarazioni di Pierluigi Piccini, raccolte dalle Iene, in riferimento a presunti festini che si sarebbero svolti in una villa fra Siena e Arezzo. E proprio queste dichiarazioni corrispondono a quelle rilasciate dall'escort nell'intervista che verrà mandata in onda stasera.